E' state calda a Teramo anche per il numero di interventi in programma in questi mesi in città. Sono diversi i cantieri avviati o pronti a partire nei prossimi giorni, in particolar modo del centro cittadino. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di sfruttare al massimo il periodo delle vacanze in modo da ridurre i disagi dei cittadini al traffico. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori in piazza Garibaldi con il transito limitato per consentire la riqualificazione della rotonda. Sì, i cantieri sono tantissimi, innumerevoli, con anche qualche piccolo disagio per i nostri concittadini. Il cantiere dell'ipogeo di piazza Garibaldi, anche sulla viabilità, adesso inizieranno i lavori su via San Marino e via Flaiani. I cantieri sono molteplici, però nello stesso tempo la città doveva concentrare le lavorazioni che potevano in qualche modo creare maggiore disagio al traffico nel periodo estivo. Come dicevamo, verranno aperti altri cantieri più circoscritti e di durata più breve. A partire dalla prossima settimana, quando in diversi quartieri del centro cominceranno interventi sulla rete del gas. Adesso due rete gas inizierà una serie di cantieri che anche questi andranno a contribuire a creare non pochi disagi ai cittadini, ma nello stesso tempo cerchiamo di contenerli e di concentrarli nel periodo estivo. Resta ancora attivo il cantiere sul ponte San Gabriele dove l'ANAS sta portando avanti la messa in sicurezza dell'infrastruttura. Il viadotto continua ad essere percorribile solo in direzione piazza Garibaldi e stando al cronoprogramma i lavori dovrebbero terminare per settembre. Il ponte San Gabriele, la stazione appaltante, ci tranquillizza sul fatto che i lavori stanno andando avanti. Speriamo che possano finire prima della riapertura delle scuole, diciamo che più che speriamo ci auguriamo e pretendiamo che possano finire nel più breve tempo possibile per poter restituire la viabilità cittadina e il ponte con l'infrastruttura così importante. Ovviamente accelerare i lavori al massimo per questo periodo estivo e essere pronti, come giustamente diceva lei, per la riapertura del 13 settembre. Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda l'amministrazione comunale, così come ho fatto con due rete gas, non solo due rete gas, con i lavori all'ipogeo e non solo, le abbiamo coordinate affinché potessero essere conclusi prima della riapertura della scuola o comunque diciamo a ridosso di quel periodo per avere il minor disagio possibile. Laddove il comune non è stazione appaltante noi possiamo chiedere, ovviamente possiamo anche sollecitare sia la ditta che la stazione appaltante affinché questo si verifichi.